Ben ritrovati in diretta su Tele4, il nostro titolo in onda in questo momento parla della programmazione del venerdì, cioè di domani sulla nostra emittente, perché sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti. Si parte la mattina con Sveglia Trieste alle ore 7, Sveglia Trieste che si è animata anche con i confronti via videocollegamento che hanno caratterizzato la trasmissione in questi giorni. Poi alle ore 11 appuntamento speciale, in diretta su Tele4, la presentazione del Parco del Mare di Trieste che andrà in onda in diretta dalla Sala Maggiore della Camera di Commercio della Venezia Giulia, dal Palazzo di Piazza della Borsa, dove finalmente vi sarà la presentazione ufficiale del progetto che andrà ad inserire il Parco del Mare nella zona dell'ex Porto Lido con una riconfigurazione peraltro di tutta la zona che sarà nuovamente, anzi forse è meglio dire per la prima volta, a disposizione della città con una passeggiata, con una serie di camminamenti e con tutta un'area che verrà in qualche modo incastonata all'interno della passeggiata sulle rive con poi la principale attrazione ovviamente il Parco del Mare, il grande acquario affacciato sul Golfo di Trieste. Quindi dalle 11 la diretta su Tele4 con la possibilità di capire quelli che sono i dettagli del progetto da tutti i punti di vista. Poi alle 13 la diretta che abbiamo appena aperto a cui segue il telegiornale, poi domani alle 14 ci sarà la prima conferenza settimanale del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga naturalmente riguardante l'emergenza Covid, quindi domani alle 14 sentiremo le parole del Presidente Fedriga e se ci sarà tempo poi le commenteremo assieme anche con le vostre telefonate. Conferenza del Presidente Fedriga, i cui passi più salienti andrà in onda poi in replica subito dopo il telegiornale della sera alle 20.05, Tg della sera che parte come sempre alle 19.30, poi la diretta fin poco prima delle 21 in cui risentiremo il Presidente e sentiremo le vostre chiamate da casa e alle 21 naturalmente appuntamento con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti nel Salotto di Ring, quindi un venerdì particolarmente ricco quello che si preannuncia su Tele4 nella giornata di domani. Andiamo invece all'attualità con le ultime parole del Ministro Gualtieri, Recovery Fund, Gualtieri negoziati in corso ma possibile accordo entro il 14 di dicembre. Lo sentiamo subito dall'Agenzia Vista. Allora, ancora un istante, scusatemi, colpa mia, vado un attimo a riconfigurare la situazione, solo un momento se ritorno in studio per cortesia. Adesso rimettiamo a posto le cose e lo vediamo a schermo pieno. Eccolo qua. Quindi in questo quadro, per quanto riguarda questo che è il regolamento più importante, cioè il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della componente di canlunga è quantitativamente più rilevante del programma negoziale, ma al di là della fisiologica, istituzionalmente, politicamente, differenza su alcuni aspetti tra la posizione. Allora, abbiamo qualche problema, rientriamo in studio, evidentemente c'è qualche problema con il collegamento con il PC. Proseguiamo, perché ci sono novità invece per quanto riguarda la situazione Covid in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia, secondo il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, è sotto la soglia del 30% per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva. La soglia è del 25%, il livello del 25% in questo momento. I dati si riferiscono al 17 di novembre, quindi parecchio recenti. E inoltre, sotto la soglia del 40%, per quanto riguarda i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid, che secondo i dati, sempre al 17 novembre, segna una percentuale del 36%. Performance in miglioramento, sempre nella stessa settimana, per l'incremento percentuale dei casi rispetto alla settimana precedente, 28,3%. Performance invece in peggioramento, nella settimana 11-17 novembre, per casi attualmente positivi su 100.000 abitanti. Insomma, questo è l'ultimo aggiornamento circa la situazione Covid in Friuli Venezia Giulia. Vedo poi se ci sono altri possibili aggiornamenti da darvi anche a livello nazionale. Tanti si interrogano ovviamente su quello che sarà il Natale in Italia, nelle diverse regioni, per chiaramente capire se sarà possibile passare un Natale il più possibile normale oppure no. E, come dire, uno dei grandi interrogativi, per esempio sul sito di Repubblica, per Natale RT sotto l'1 si è i regali, no ai cenoni o ci sarà la terza ondata? Questo chiaramente è uno dei temi che, come dire, tornano più spesso in questo momento. Rientriamo in studio un momento, così vedo se riesco a farvi sentire un'altra cosa. Il Presidente del Consiglio Conte ha parlato del ruolo dei sindaci in questa emergenza. Sentiamoli. Ha fatto bene a dire, a ricordare, siete le sentinelle della produzione sociale, senz'altro siete il presidio di legalità sul territorio, siete il presidio, la spina dorsale anche della pubblica amministrazione. Mi fa piacere che il Presidente De Caro abbia dato atto del fatto che il governo, io stesso, abbiamo sempre dato un ruolo, riconosciuto un ruolo centrale. Non potrebbe, peraltro, essere diversamente a quello dei sindaci, anche in questa emergenza. Abbiamo dialogato con voi sin dall'inizio. Lei ha ricordato, caro Presidente De Caro, un passaggio fondamentale. Quando i sindaci, o meglio, nel servizio che era stato anche presentato, quando i sindaci hanno rinunciato a una loro facoltà per rimettere al governo, per un maggior coordinamento sul territorio nazionale, l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio. Parliamo della prima ondata. Allora, queste le parole del Presidente del Consiglio, il Premier Conte, su quella che è l'importanza del ruolo dei sindaci in un momento del genere in cui si vive la pandemia, chiaramente, e si cerca di contrastarla sui territori con provvedimenti concreti e con azioni concrete. Andiamo a sentire anche il Governatore del Veneto, Zaia, che parla proprio di quello di cui stavamo dicendo, affrontato poco fa, ovvero la situazione relativa al Natale. La domanda cruciale che ci fanno tutti è ma siamo arrivati ai massimi, ma la curva sta flettendo, ma guardate, noi stiamo semplicemente gestendo con un poche difficoltà questa partita. Stamattina con i direttori abbiamo parlato lungamente del tema delle terapie intensive che oggettivamente stiamo creando nuovi posti, ma abbiamo posti che si sono liberati. questo, fra l'altro, ieri è stata una giornata di grande turnove, per cui abbiamo già, voi capite che quando entra un paziente interapiente si fa due o tre settimane e quindi abbiamo già i primi pazienti che escono, quindi è ovvio che adesso si va anche in scarico. L'importante è non caricare più tanto, questo è il vero tema. Vediamo gli effetti delle cure domiciliari, del territorio che risponde, li dovremo vedere sempre di più. speriamo dagli indicatori che abbiamo di essere entrati nella parte alta della curva, vedremo quanto durerà. Ovvio è che oggi previsioni tipo natalizie eviterei di farle, insomma c'è la domanda ricorrente di dire ma è Natale come sarà? Natale come sarà? Ve lo so dire Natale come sarà? Cioè qui siamo oltre le previsioni del tempo, qua siamo veramente in un ambito nel quale voi vedete che ogni giorno ha la sua pena come diciamo noi. Insomma la squadra è performante, rende anche stamattina un paio di ore di videoconferenze, in più ogni mattina vi ricordo che il comitato di crisi di coronavirus si incontra autonomamente, dopo di che facciamo la riunione con i direttori generali. Questo insomma è il report, l'ultimo report del governatore Zaia nel vicino Veneto su un tema che chiaramente è sulla bocca di tutti. Quanto al tema delle terapie intensive, ripetiamo, Fondazione Gimbe dice Friuli Venezia Giulia sotto la soglia del 30% delle terapie intensive eravamo il 25 il giorno 17 novembre, così come i posti letto sotto la soglia del 40% erano il 36% sempre il 17 novembre. Quindi insomma una situazione che comunque dà dei dati rincuoranti, la speranza naturalmente di tutti gli abitanti e residenze del Friuli Venezia Giulia è che questi dati vengano confermati sotto le varie soglie in attesa del prossimo passaggio di fasce, ovvero la possibilità di ritornare in zona gialla che chiaramente aveva meno limitazioni. Questo naturalmente avviene solo se tutti rispettano quelle che sono le regole. Tra l'altro questa sera vedremo in diretta nel corso del nostro telegiornale alle 19.30 anche la nuova protesta nel mondo della ristorazione in piazza dell'Unità d'Italia, in diretta su Telequattro nel corso del telegiornale saremo collegati con la piazza centrale di Trieste. Proseguiamo dando un'occhiata anche alle notizie sugli altri quotidiani nazionali, Corriere della Sera, Caos centrodestra, Ravetto e due deputati lasciano Berlusconi e vanno con Salvini, non a Inciuci col governo. E poi ancora oggi il vaccino di Oxford in cose diverse dagli altri due, quelle che sono le analisi sui diversi vaccini che si profilano all'orizzonte, speriamo come risoluzione definitiva, si spera del problema. Miozzo, Comitato Tecnico Scientifico, il cenone non si può fare, quindi già si mettono le vani avanti per Capodanno e per Natale, troppi contagi in New York e chiude le scuole, Lombardia Arancione non prima del 27. Negozi e ristoranti potrebbero riaprire dal 3, ma poi nuove chiusure prima di Natale. Dunque, insomma, una situazione che se da una parte si è detto poco fa non si sa ancora come sarà il Natale, mi sembra che invece ci sia un'idea abbastanza chiara, cioè comunque non sarà un Natale da grandi pranzi e cenere e un Capodanno da grandi feste in piazza e in casa. Dopodiché, smart working, pc, sedia ergonomica, buoni pasto, ma chi paga tra aziende e dipendenti, quello smart working fortemente raccomandato dal governo, milioni di persone che lavorano da casa, si moltiplicano i punti di contezioso tra aziende, dipendenti e sindacati. Insomma, questa è un po' la situazione che si vive in tanti ai tempi del coronavirus. Intanto, rivediamo la copertina del Fatto Quotidiano, Bertolaso trasloca i malati e i medici, consulente ubiquo per avere più terapia intensiva in Umbria, vuole trasferirli a Civitanova Marche, nell'altro ospedale, flop da 18 milioni a 150 chilometri di distanza. Insomma, anche qui tiene banco chiaramente non solo il tema dei numeri del contagio, ma soprattutto dell'organizzazione sanitaria. Casi ricoveri, terapie intensive vicino al picco di aprile, ma si rallenta, scenderanno solo 15 giorni dopo le infezioni, dicono gli esperti. Contagi, la curva si è stabilizzata, ma di morti ne vedremo tanti, dicono gli esperti, 753, le vittime di ieri, in quelle che sono le ultime 24 ore. Poi il tema di Bertolaso e della situazione nelle Marche, Calabria è tutto fermo, oggi protestano i sindaci e ci sono situazioni chiaramente molto differenziate a seconda delle diverse parti d'Italia. Io vi ricordo ancora una volta in chiusura di questa parte di trasmissione, quella che sarà la giornata di domani su Telequattro. Si parte alle 7 del mattino con Bernardo Gulotta domani in conduzione, con il consueto confronto del mattino, gli ospiti delle vostre chiamate. Poi alle 11 la diretta della presentazione del Parco del Mare di Trieste nella zona di ex Portolido, con tutti i dettagli progettuali, le ricadute, le prospettive di ricadute turistiche, occupazionale e quant'altro, in diretta dalle 11 fino a poco dopo mezzogiorno su Telequattro. All'una di nuovo in diretta, 1.20, 13.20 il telegiornale, alle 14 la conferenza stampa settimanale del Presidente Fedriga, che domani vara questa che diventerà un appuntamento settimanale. In diretta su Telequattro dalle 14 dunque, poi tutti i commenti del caso, la riproporremo la sera alle 20.05, in sintesi, subito dopo il telegiornale della sera, per chiaramente permettere a tutti di visionarla sugli schermi di Telequattro, e poi naturalmente ore 21, Ring, gli ospiti di Ferdinando Avarino, gli approfondimenti del giorno, le ultime novità. Ovviamente Ring c'è anche questa sera, peraltro con un importante focus dal punto di vista della sanità, infatti avremo con noi nel corso della puntata di Ring appunto, un esperto del settore che dialogherà in particolare sul tema dei posti letto e delle cure semi, non semi intensive, ma di medio livello, con i pazienti di media gravità che stanno pian pianino andando ad occupare i posti letto e che rappresentano la situazione sulla quale c'è il monitoraggio più forte, più costante e la situazione, diciamo così, più critica in questo momento, in Friuli Venezia Giulia. Un istante pubblicità, torniamo con il telegiornale. Ben trovati con una nuova edizione del telegiornale di Telequattro, iniziamo con un dato. Il Friuli Venezia Giulia, secondo il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, è sotto la soglia del 30% per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. La soglia al momento è del 25%, il dato si riferisce al 17 di novembre. Inoltre sotto la soglia del 40% per quanto riguarda i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid che secondo i dati, sempre al 17 novembre, segna una percentuale del 36%. Performance in miglioramento sempre nella stessa settimana per l'incremento percentuale dei casi rispetto alla settimana precedente e performance invece in peggioramento nella settimana dall'11 al 17 di novembre per casi attualmente positivi per 100.000 abitanti che sono 858. E sempre in tema Covid, questa mattina ha iniziato il servizio di tamponi drive-in anche nel parcheggio del centro commerciale Torri d'Europa di Trieste. Per noi c'era Laura Bucarella. A partire da oggi, qui nel parcheggio al piano meno 2 del centro commerciale Torri d'Europa è possibile farsi il tampone per rilevare o meno la presenza del coronavirus. Per accedere al servizio basta collegarsi al sito della Salus. Un servizio in più per la sanità triestina negli spazi che il centro commerciale ha messo a disposizione del Policlinico Triestino è stato allestito un drive-in per i tamponi. L'operazione è semplice e rapida. Dopo aver preso appuntamento online nell'area prenota tamponi Covid del sito salustrieste.it ci si presenta l'appuntamento in automobile accedendo ai parcheggi da via Svevo senza scendere dalla vettura. Nella prima giornata di attivazione di questo servizio sono già state tante le macchine che abbiamo visto arrivare qui al parcheggio del centro commerciale Torri d'Europa. L'auto arriva nel parcheggio e il personale procede a identificare il cittadino che ha prenotato il test. La vettura poi avanza e si avvicina a una delle due postazioni di rilevamento allestite dove viene eseguito il tampone. Non essendo richiesto di scendere dalla propria auto si garantisce la netta separazione del percorso sanitario da quello degli automobilisti in ingresso al centro commerciale che manterrà così la sua indipendenza per una frequentazione sicura dei propri spazi. Un'operazione in totale sicurezza senza contatti o assembramenti in fila in attesa della prestazione. Il referto dell'esame sarà disponibile entro 24-30 ore dal prelievo e sarà scaricabile online. Con questo sistema ha spiegato Guglielmo Danelon amministratore delegato del Policlinico Triestino saremo in grado di garantire l'esecuzione di 500 esami al giorno senza rischi. Vi ricordo da subito che questa sera a Tornaringo ore 21 Ferdinando Avarino ancora a tema Covid con alcuni esperti in collegamento e poi vi ricordo domani su Telequattro ore 11 del mattino la presentazione del Parco del Mare in diretta su Telequattro e alle ore 14 la conferenza stampa che diverrà appuntamento settimanale del Governatore Fedriga sulla situazione Covid in Friuli, Venezia Giulia. Andiamo con la cronaca si è conclusa con l'arresto di quattro persone tra direttamente collegate alla vicenda tre direttamente collegate alla vicenda un'indagine scaturita da un diverbio fra due coppie cui vanno aggiunte violazioni di domicilio lesioni personali rapina e in sede accessori a detenzione di cocaina ai fini di spaccio Umberto Bosazzi Quattro persone sono state arrestate ieri mattina una in fragranza di reato i reati violazioni di domicilio lesioni personali e rapina detenzione di cocaina ai fini di spaccio tutto era cominciato ad agosto in seguito ad una discussione fra due coppie di avventori in un bar di Via Grego causa il cane appartenente ad una delle coppie volano parole qualche spinta fino a quando uno dei litiganti colpisce la macchina dell'altra coppia infrangendone il parabrezza con un boccale di birra l'intervento di una volante rimette a posto le cose evidentemente però una delle coppie coinvolte deve essersi ispirata per il proprio stile di vita alle gesta di Ike Clanton e dei figli se non addirittura al clan dei Becker fatto sta che padre madre figlio e figlia non soddisfatti del danneggiamento dell'automobile il giorno dopo si presentano alla porta dell'abitazione dell'altra coppia si fanno aprire dalla padrona di casa che le due donne colpiscono subito con calci e pugni mentre la componente maschile della famigliola si occupava con altrettanta se non maggiore solerzia del compagno della vittima dopo che i quattro si sono allontanati ai due malcolci non resta che chiamare la polizia dopo essere stata medicata in ospedale e rientrata a casa la coppia constata la sparizione di un bracciale e di contanti dalla ricostruzione dei fatti il PM Federico Frezza dispone l'arresto di padre madre e figlia anche in ragione dei numerosi precedenti penali dei tre c'è di più nel corso delle perquisizioni disposte a casa della figlia era presente un uomo noto per reati contro il patrimonio il quale alla vista delle forze dell'ordine aveva gettato dalla finestra due involucri e un bilancino di precisione i poliziotti hanno così recuperato 25 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi e anche per questo personaggio si sono chiuse le porte del coroneo proseguiamo dando una specifica sugli ospiti di questa sera ring Paolo Vassallo dirigente medico della pneumologia di Asugi alle ore 21 poi Alberto Polacco di Forza Italia Francesco Martinez sindaco di Palmanova e Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle alle 22.40 un'intervista faccia a faccia con l'assessore regionale della sicurezza Pierpaolo Roberti andiamo avanti sono state installate e presentate stamattina le nuove telecamere di video sorveglianza di lettura targa o piccina si tratta di un'opera molto attesa dai cittadini del borgo carsico che nel recente passato hanno fatto i conti con numerosi atti criminosi fra furti rapine e atti vandalici in zona sono state installate e sono operative le nuove telecamere di sicurezza e lettura targa o piccina questa mattina la presentazione al quadrivio luogo dove sono stati installati 5 apparecchi 2 brandeggiabili e 3 fissi tutti in definizione 4k quindi di alta qualità d'immagine non solo in questa zona altre telecamere sono state installate anche in piazzale Monterè e alla rotonda del centro l'esigenza di maggiori controlli si era fatta più insistente dopo l'escalation di atti vandalici e di furti o in qualche caso rapine in abitazioni o esercizi commerciali del borgo carsico motivo per cui era nato anche un comitato che aveva richiesto interventi proprio al comune di Trieste queste telecamere possono fungere da deterrente per atti criminosi ma anche da strumento prezioso per le indagini da oggi si può dire che o piccina e quindi anche l'altipiano per la prima volta hanno un sistema di videosoveglianza un sistema tra l'altro importante perché ci permette anche di avere appunto il sistema di lettura targhe che è particolarmente importante soprattutto in questa zona di ingresso e uscita appunto da Trieste allo Stato ai confini di Stato da dove possono entrare anche delle vetture che sono state magari rubate il momento prima e che servono ai malintenzionati per venire a fare degli atti delinquenziali all'interno dell'abitato o anche a Trieste per cui direi che questa strategia unitamente tra l'altro bisogna ricordarlo all'apertura del distretto della polizia locale formano appunto un sistema di sicurezza di videosoveglianza che o piccina chiedeva ai quali cittadini abbiamo dato risposta oltre a quelle di contesto sono state posizionate sia al quadrivio che nella rotonda del centro due telecamere di lettura targa nei punti di ingresso e uscita dall'abitato una per ciascun senso di marcia che sono visualizzabili dalla polizia locale oggi si conferma l'impegno della giunta di piazza nei confronti del tema innovazione e sicurezza l'installazione di queste 5 telecamere qui al quadrivio di Opicina va proprio in questa direzione sono telecamere di altissimo livello in 4k che permetteranno di raccogliere delle immagini molto nitide anche se i soggetti sono in movimento saranno collegate direttamente con la polizia locale proprio per permettere un intervento immediato e repentino in caso di eventuali criticità costo dell'intera opera 50.000 euro e proseguiamo ancora parlando invece della nostra rubrica io chiamo telequattro dell'ultimo caso di cui ci siamo occupati è questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude di certo agli abitanti di via San Benedetto la siepe all'interno della scuola San Giusto è tutt'altro che cara essa infatti preclude la visibilità a chi deve mettersi in via visinada a maggior ragione se come capita abbastanza spesso vi sono automobili parcheggiate proprio all'incrocio ma anche chi provenendo da via Zorutti deve salire in via San Benedetto non ha una visione completa di quell'incrocio tempo fa parte della siepe fu potata come ben si può vedere non però quella che come dire si affaccia sull'incrocio che risulta pertanto pericoloso anche in condizioni normali per rendersi conto della situazione gli automobilisti debbono spingersi sin troppo avanti e considerando che per tutta una serie di ragioni quelli che transitano lungo via visinada in genere sono portati a prendere una certa velocità i rischi davvero non sono pochi anche per le persone disabili a tale situazione si aggiungono atteggiamenti sempre più consueti di menefreghismo se qualche volta ti azzardi a dire alle mamme che vengono a prendere i figli che sono qua sulla curva o davanti al bar più avanti dicono e beh puoi aspettare infine si fa notare anche il muro di cinta della scuola in prossimità della siepe presenta una serie di problematiche non di poco conto allora proseguiamo anzi chiudiamo con la situazione meteo di oggi giovedì 19 novembre cielo sereno poco nuvoloso per velatura al mattino saranno possibili locali foschie sulla bassa pianura in tarda serata nella notte successiva successiva probabile peggioramento con piogge sparse in effetti da domani arriva la bora anche sostenuta con raffiche fino a 100 km orari forte abbassamento delle temperature e bora che continuerà a soffiare in maniera molto forte anche nelle giornate di sabato in particolare e poi ancora domenica determinando un abbassamento forte delle temperature in particolare sulla costa ma in tutto i Friuli Venezia Giulia è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale proseguiamo con la diretta di Telequattro grazie a tutti grazie a tutti